Il sacrificio più gradito a Dio è l'offerta della propria volontà per fare la volontà del Padre ed è anche la strada della santità, cioè che il piano di Dio venga fatto. Lo ha spiegato Papa Francesco nell'omilia della Messa del Mattino celebrata nella cappella di Casa Santa Marta. Quindi bisogna chiedere ogni giorno a Dio la grazia di capire la sua volontà, la grazia di seguirla e di compierla fino in fondo. Il contrario incominciò al Paradiso con la non obbedienza di Adamo. E quella disobbedienza ha portato il male a tutta l'umanità. E anche i peccati sono atti di non obbedire Dio, non fare la volontà di Dio. Invece il Signore ci insegna che questa è la strada, non c'è un'altra. E incomincia con Gesù, sì, nel cielo, nella volontà di obbedire al Padre, ma in terra incomincia con la Madonna. Lei cosa ha detto all'angelo? Ma che si faccia quello che tu dici, cioè che si faccia la volontà di Dio. E con quel sì al Signore, il Signore ha incominciato il suo percorso fra noi. Io prego perché il Signore mi dia la voglia di fare la sua volontà, o cerco i compromessi perché ho paura dalla volontà di Dio. Un'altra cosa. Pregare per conoscere la volontà di Dio su di me, sulla mia vita, sulla decisione che devo prendere adesso, tante cose. Sul modo di gestire le cose. è preghiera per voler fare la volontà di Dio e preghiera per conoscere la volontà di Dio. E quando conosco la volontà di Dio, anche la preghiera, per terza volta, per farla, per compiere quella volontà, che non è la mia, è la di lui, e non è facile. Grazie a tutti.